E' al convegno organizzato da CGL nella giornata di oggi a Bari per parlare appunto di politiche per rilanciare il Sud, invitati anche il governatore di Puglia Michele Emiliano e Confindustria. Abbiamo sentito il presidente regionale e il presidente amministratore delegato di Ex Privia S.p.A. Domenico Favuzzi. Guardate. CGL non lascia ma raddoppia. Accanto ai temi caldi che attraversano la trattativa ILVA in questi giorni, il sindacato nazionale dei lavoratori italiani apre uno spazio alla riflessione sulle opportunità per la rinascita economica del Sud del Paese. La Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori ha convocato Confindustria, l'università e il ministero. Si è parlato di nuove politiche industriali per il mezzogiorno e della possibilità di riattivare la macchina del dialogo tra le istituzioni, le imprese e i sindacati per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione. All'appello non manca il governatore di Puglia Michele Emiliano che plaude all'impegno di CGL malgrado non ne abbia condiviso sempre i percorsi. Dobbiamo restituire alle nostre regioni la capacità di agganciare la crescita economica del resto d'Europa, dice. La possibilità di riscatto della nazione risiede nelle nostre opulente terre. Io ho chiesto al ministro Lezzi di farci realizzare questo antico sogno che i governi precedenti hanno sempre impedito, diciamo così, ostacolando il coordinamento delle regioni del mezzogiorno. La CGL in questi anni si è sforzata, assieme anche agli altri sindacati, per sostenere questo nostro sforzo di collaborazione tra governo e regioni. Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Ex Privia SPA, una delle più importanti società per azioni del mezzogiorno, si concentra su un aspetto fondamentale del mancato riscatto della nostra regione, la migrazione delle nostre eccellenze all'estero. C'è un'emoragia di cervelli che scappano via ma non tornano a casa. Il Soda è tanto capitale umano, lo forma anche bene, però poi lo perde. Lo perde perché c'è poca finanza e poca connessione tra l'imprendimento di territoria che c'è in Puglia, la finanza e i territori e le città. C'è dunque la necessità di investire nelle nostre regioni controllando le dispersioni e la corruzione e persistono ancora molti interrogativi.